Lo hanno catturato a San Polo di Piave. Pericle Puiu, il rumeno evaso la notte scorsa dal reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso, calandosi con le lenzuola dal terzo piano, si era rifugiato nel paesino dove anni fa viveva. Un'operazione chirurgica, quella degli agenti della polizia penitenziaria, che lo hanno fermato in una gelateria. Una ventina di uomini in tutto che hanno circondato l'area così da impedirgli la fuga. Non avrebbe opposto resistenza facendosi ammanettare dopo quasi 48 ore di ricerche. L'allarme era stato lanciato subito dopo l'evasione con posti di blocco da parte di polizie e carabinieri. Le ricerche si erano concentrate tra Silea e San Biagio di Calalta per poi spostarsi nell'entroterra fino ad arrivare a San Polo, dove a quanto pare avrebbe avuto dei contatti che sono ora al vaglio degli investigatori. Sta di fatto che nella giornata di ieri qualcuno già lo aveva notato. Sembrerebbe in un locale che vende kebab. Mia madre era il kebab ma non sapeva di questa cosa. Oggi glielo ho detto e mi ha detto che ieri era là a mangiare un kebab. Noi non sapevamo niente da stamattina, avevamo visto il giornale e stavamo parlando infatti da stamattina. Quindi tua madre ha visto ieri la persona che cercavano? Ma non sapeva, lei non lo sapeva. Verso che ore erano? Mi ha detto per le due, per le due di pomeriggio. Dunque notato già ieri all'ora di pranzo, quando invece le ricerche si concentravano in un altro posto della provincia. Forse il rumeno, gravato da un provvedimento restrittivo in carcere per rapina, si sarebbe fatto aiutare da un complice per raggiungere la località dove aveva vissuto. Una segnalazione importante che ha guidato gli investigatori sul posto, come dichiara lo stesso sindaco di San Polo. Sì, diciamo che ha voluto appunto spostarsi abbastanza rispetto al luogo dell'evasione. Diciamo che comunque era un personaggio già conosciuto a San Polo, è stato residente in passato, sicuramente avrà avuto delle amicizie. Ecco, è stata fatta un'operazione da parte della polizia penitenziaria in collaborazione con i carabinieri, chirurgica e sono sono riusciti nell'intento di bloccarlo senza che potesse creare ulteriore scompiglio. Adesso si cercheranno probabili complici della sua fuga, ma bisognerà stabilire anche come abbia fatto a deludere la sorveglianza all'interno del reparto di malattie infettive dell'ospedale Trevigiano, dove era ricoverato per accertamenti.